Ultimissimi metri di questa Gantt-Wevelgem 2021, giocanza da soli in sette con tre italiani, vediamo in questo momento sta partendo la volata, la lancia a Wout van Aert, Wout van Aert, è in testa Wout van Aert, Giacomo Nizzolo tenta di rimontare ma la vittoria va, Wout van Aert, il corridore belga della Jambovisma conquista l'edizione 2020 della Gantt-Wevelgem. La corsa più importante della campagna del nord, della campagna del pavè dopo ovviamente il Giro delle Fiandre. Una bellissima corsa è stata quella di oggi, seppur con poca azione però è stata molto molto difficile, molto molto dura come corsa, resa durissima soprattutto dalla presenza di un forte vento, che è una caratteristica che troviamo spesso in questa corsa. Buongiorno a tutti amici passati di sport, ben ritrovati su Mollerian Sporciane e Sanessandio sono qui per parlarvi appunto della Gantt-Wevelgem 2021. Gantt-Wevelgem prova di 246 km con partenza da Ypres nei pressi di Gantt della città delle Fiandre e arriva appunto nella cittadina di Wevelgem. La parte decisiva erano i tre passaggi sul Kemmelberg, Kemmelberg che è appunto uno strappo in pavè con pendenze anche molto ripide che appunto venne ripetuto tre volte, due da un lato che appunto è quello del Belvedere e un altro dal lato dell'ossuario, quindi dal lato diciamo più duro ma più breve. Inoltre erano presenti anche le salite del Monteberg e del Baneberg in questo circuito. L'ultimo strappo, l'ultimo Kemmelberg è però a 35 km dalla conclusione. Ma a fare la vera differenza è stato quest'oggi, così come nel 2015 quando a vincere fu Luca Paolini, a fare la differenza è stato il fortissimo vento laterale che hanno trovato sin dalle prime fasi. Subito sono partiti quattro corridori, stiamo parlando di Evgeny Fedorov, il classe 2000 Kazako della Astana, poi Lorenz Rees della Banglonie Bringol e la coppia della Yev Drapak con lo svizzero Stefan Bisegare al tedesco Jonas Rücce. Si forma dunque un... da dietro però tenta di forzare il ritmo, se non sbaglio, la Bahrain McLaren. Purtroppo non abbiamo avuto immagini in diretta appunto di queste prime fasi, però diciamo dalle immagini sembra di aver aperto il ventaglio sia stata la Bahrain McLaren di Sonny Colbrelli. Da ricordare tra l'altro l'assenza di Bora Hasgro e Trex Gafredo a causa di positività riscontrate appunto tra gli staff e anche tra i corridori e quindi veramente forfè dell'ultima ora per le due squadre e anche per il campione uscente Mads Pedersen che la vinse appunto lo scorso anno. Dopo 60 km di corsa si aprono dunque dei ventagli e restano davanti in 21, tra cui Witt Van Aert con il compagno Nathan Van Oudonck, Michael Matthews con ben tre compagni di squadra, Sam Bennett, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo e Stefan Küng tra quelli più importanti, tra quelli più blasonati diciamo. In gruppo dietro tirano le squadre che sono state sorprese principalmente la Alpes in Venice di Jasper Philipsen e di Tim Merlier, considerando anche l'assenza appunto di Mathieu van der Poel, ma anche la Cofidis di Christophe Laporte, la Jeu de Zerre di Greg Van Avermaet e di Oliver Nasen. La fuga viene ripresa dopo 20 km diciamo dall'apertura dei ventagli, recuperati 5 minuti in veramente pochissimo tempo ovviamente, come ogni volta che si aprono questo tipo di situazioni. Frazionamenti che continuano da dietro in gruppo, sul ritmo imposto soprattutto da Alpes in Venice, ma anche da Desioni Quickstep, che nonostante la presenza di Sam Bennett davanti, ha deciso comunque di tirare da dietro per cercare di rientrare con corridori più adatti diciamo a questo tipo di corse, tra cui appunto Genek Stibar e Yves Lampard. Tra Bannenberg e Kemmelberg sono diversi gli attacchi in gruppo, a provarci sono Stibar con anche Ballerini, in seguito rientra Lampert, ci provano anche gli Alpes in appunto con Riesbeck, con Vermersch e con Philipsen, ma nulla da fare. Quelli davanti vanno di comune accordo, nonostante appunto molti si siano staccati sui vari passaggi sul Kemmelberg, tant'è che dopo il secondo Kemmelberg, sul forcing di Nathan Van Oudon, che è compagno di squadra di Wout Van Aert, restano solamente in 9. Stiamo parlando di Wout Van Aert, Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin, Sam Bennett, Sam Bennett che è resistito molto molto bene sugli strappi in pavé, Stefan Kung, Michael Matthews, Danny Van Poppel, anche lui grande resistenza quest'oggi, e appunto Nathan Van Oudonk. Sul secondo passaggio, sull'ultimo passaggio sul Kemmelberg, a provare a forzare il ritmo è Matteo Trentin, ma non riesce a fare la differenza, restano sempre quei 9 davanti, perde qualche metro Van Oudonk, ma rientra tranquillamente. Dunque, fase finale, con tra l'altro gli ultimi 5 chilometri cambiati a causa della presenza di un incendio a circa 3 chilometri dalla conclusione, quindi hanno dovuto cambiare all'ultimo gli ultimi 5 chilometri, ma sostanzialmente non è cambiato nulla, perché comunque è sempre, si travattava sempre di un tratto completamente pianeggiante, il tratto appunto finale della Gendwebelgem. Dunque, si arriva in volata, ci prova a meno 1,5 chilometri dalla conclusione, Stefan Kung, si incolla subito alla sua ruota, Giacomo Nizzolo, il campione europeo, segue poi appunto Michael Matthews, e soprattutto importantissimo per questo finale, per appunto la tattica in questo finale, la presenza di un compagno di squadra, di Wörth van Aert. Stiamo parlando appunto di Nathan Van Oudonk, che ha fatto una grandissima corsa quest'oggi, il corridore belga della Jumbo Wörth van Aert, si è messo appunto in testa a tirare, rendendo impossibile attaccare, per appunto consentire al suo compagno di squadra, al ciclocrossista, il fortissimo ciclocrossista e ovviamente stradista Wörth van Aert, di andare a disputare la volata e, come abbiamo visto precedentemente, a vincerla. Andando così a conquistare la seconda classica di peso nella sua carriera, dopo aver vinto appunto la Milano-Sanremo lo scorso anno, anzi scusate, la terza classica di peso, perché l'anno scorso vinse nell'arco di una settimana la strada bianca e appunto la Milano-Sanremo. La seconda posizione in volata è conquistata dal campione europeo Giacomo Nizzolo, davanti a Matteo Trentin e Sonny Colberelli, quindi Italia che chiude seconda, terza e quarta. C'è un po' di delusione, però diciamo che Wörth van Aert era il più forte, lo si sapeva, tra l'altro un corridore che a me piace tantissimo. Nel dualismo tra Van Aert e Van Der Poel io onestamente sono van Aertiano, evidentemente sono tra i pochi a preferire Van Aert, comunque è veramente un corridore fortissimo. Peccato per Nizzolo, Trentin e Colbrelli, comunque un grandissimo risultato per loro e sarà anche interessante vedere ai mondiali, oltre appunto settimana prossima al Giro delle Fiandre, sarà interessante vedere ai mondiali in Belgio, appunto l'Italia che avrà diverse punte con appunto Trentin, Colbrelli, Nizzolo e lo stesso Ballerini, sarà veramente interessante. La quinta posizione occupata da Michael Matthews, poi Stefan Küng, Nathan Van Oidonck, Dylan Van Barle e Anthony Turijs, che vengono attaccato in precedenza dal gruppo dietro, intorno ai 15 km alla conclusione, e poi a vincere la volata del gruppo dei battuti è Gianni Vermersch della Alpesin Phoenix, che si può considerare come la squadra battuta quest'oggi, perché appunto non avendo Matthew Van Der Poel puntavano su Jasper Philipsen e Tim Merlier, tra l'altro sono stati anche piuttosto sfortunati, con diverse forature sia per l'uno che per l'altro, però insomma ci si aspettava qualcosa in più, ci sono fatti sorprendere nel ventaglio, avrebbero potuto piazzare sicuramente un corridore che se la sarebbe potuta giocare tranquillamente, però appunto sono rimasti sorpresi nella fase dei ventagli, appunto hanno piazzato solamente Gianni Vermersch in decima posizione. Comunque ragazzi, vi ringrazio per questo video, vi ricordatevi, vi piace iscrivervi, ci sono la nostra pagina di Instagram, e ci vediamo a un prossimo video, spero di portare la Genwevel Genfemminile, che appunto verrà trasmessa proprio a partire da adesso in pratica.